Salve tutti ragazzi scusate se parlo con questo tono ma che ne so che una? Sì, non è mezza. Sono sempre in compagnia... Una mezza Destiny. Stiamo con Damelone. Sì, che bello. Damelone è artista. Mi sono ritortato anche lei. Se vedete la luce un po' schifosa è perché... C'è l'orario del cazzo. Che schifosa proprio lei. Comunque, allora oggi come promesso vi faccio un mazzo già aperto perché l'ho visto un po' rovinato. Facciamo l'apertura del mazzo dei Monarca e niente ne apriremo solo uno perché c'è tre d'acquiglio. Cambia giusto un cazzo. Wow, non lo prendo circa quella. Vai Destiny, faccio vedere sto mazzo. Che mazzo. Quello è un deck proprio potente. Scusate se non faccio video ma tutti quanti siamo un po' in ansia per gli esami. Ah, sì, è poco. Terrore è tanto. Ah, terrore è a dir poco. Terrore. Allora, questo è il pacchettino, il libretto delle regole, metto da parte. Diciamo una cosa, una cosa bella. Bellissimo. Sex, dato che è un mazzo, mettiamo il tappetino a te. Sì, ma è proprio lui. Proprio lui. Proprio lui. Ecco. Anche se sarà un po' troppallante. E apriamo ora. Non riesco ad aprire. Ah, non ho più capito mai. Eh, vai Destiny. Allora. Scusate i problemi tecnici. Allora abbiamo Eitel e Rebus. Non so se si vedono bene però, vabbè, ci arrangiamo. Poi abbiamo i due vassalli super. E, vabbè, la parte di spiena la carta qui. Poi abbiamo tutti i Monarch comuni. Almeno con gli standard da parte Curatz e l'altro che non mi ricordo come si chiama. Quella D iniziava. Poi altri vassalli. Ma tipo quando ho portato questi all'università ho detto Cazzo, ma escono comuni quei cosi. E ho detto eh sì. Ah, cazzo, c'è pure questo. Snatcher. Tragodia. Dandelion. Matematico. Devil Heater. Butterfather. E il... Rainbow Coribo. Mamma, che cosa ho pinto. Vabbè, senza seguito. Poi abbiamo la Dominion. Sì, per meno sì. Dominion, che minchia, è una terreno mostuosa. Se volete vi posto la profile del Monarch, ma dobbiamo arrivare a tanti leak. Sennò sono triste. Sennò sono triste. Sennò sono triste. E anche caso. E anche caso. Questo è il Return of the Monarch, però ce l'ho ultra. Mediacere Ultra. Poi questa è la carta principale, possiamo dire. Tenacity. Sergino mostruoso. Questa non si gioca. Cioè o meglio io non la gioco. Enemy Controller. Questa cosa... Che cazzo. Vabbè. Sol charge. Una falla nella tua cultura. Prime Monarch. Che è una trappolina che è molto utile contro Bermade. Non sto più a spiegarvi il tutto. Magari nella profile. Lo faremo. Poi First Monarch. Escalation. Awakend, mi sembra. Erut. Facebook. Poi questa. Questa mi sembra sia nuova. Quindi la conosco. E poi un bellissimo token. Ok ragazzi. Cosa vi devo dire? Scusate se non posso pubblicare video. C'è un periodo d'esame. C'è un periodo d'esame. Non ci posso fare nulla. Mettete tanti like e facciamo un'eccezione. Tipo 1000-2000 e ci pensiamo. Tipo faccio il video mentre faccio l'esame. Stai facendo il video. Quei professori che ci filmano. Quei professori che ci filmano. Se volete un video dei nostri professori con noi. Mandate un sacco di like ragazzi. Mamma mia. E i destini provvederà. Così prenderò tanti soldi. Capito. Prenderò tanti soldi e diventerò money grabber eh. Guardate. Lo sardo di un tu. No, non grabber. Grabbere. Grabbere. Guardate che io sono un ex volontario. E niente. Il prossimo video faremo una sgustata. Tornerò attivo con il gioco. Non appena avrò finito gli esami. Probabilmente. Coinvolgerò anche loro due. In questa tortura. Il mio dio sarà il distrutto. Mamma mia. Gli farò sprecare i loro soldi. Tutti. Perché sappiamo che Yu-Gi-Oh! È un gioco per bambini. Ma che richiede tanti soldi. E voi iscritti di un tuc. Iscritti di un tuc. Lasciate un mi piace. Andate sulla pagina. Iscrivetevi al canale. Mettete mi piace alla pagina Facebook. E non abbormateci le palle con la vostra stupidità. Ère! È un gioco. Che c'è. E veis! Grazie a tutti.